Siracusa accusato di 5 furti viola ripetutamente gli arresti domiciliari, i carabinieri lo spediscono in carcere. Un giovane irascibile con il disprezzo del pericolo, ovvero il pericolo di reiterazione del reato, parliamo di un 25enne ritenuto responsabile dei 5 furti e danni di diversi esercizi commerciali dell'isola di Ortigia con reiterate volte di evasione domiciliare. I carabinieri della stazione di Ortigia hanno eseguito un provvedimento di aggravamento di misura cautelare messo dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa, traendo nuovamente in arresto Ugo Luca Pugliara, 25 anni. Il Pugliara era stato arrestato solo qualche giorno fa, sempre da carabinieri di Ortigia, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, arresti domiciliari, poiché è ritenuto responsabile dei 5 furti e danni di diversi esercizi commerciali dell'isola di Ortigia. Il giovane, tuttavia, confermando la sua già palesata rifrattarietà a rispettare le regole, ha fin da subito violato più volte la misura cautelare a cui era sottoposto nell'arco dei primi 5 giorni di detenzione, è stato infatti denunciato dai carabinieri della polizia per ben tre volte per evasione, venendo puntualmente sorpreso mentre senza ritegno alcuno si aggirava sulla pubblica via. Alle numerose denunce sono eseguite anche le opportune segnalazioni al tribunale competente, che è quindi, alla luce dei fatti, ritenuta inadeguata la misura cautelare in corso e la sostituita con quella più grave della custodia in carcere. Il giovane, dopo le formalità, è stato quindi tradotto presso la casa circondareale Cavadonna di Siracusa. Grazie a tutti.